Buongiorno a tutti, siamo qui nella sala Zuccheri del Senato per illustrare la relazione annuale dell'EMPAIA, l'ente nazionale di previdenza e assistenza degli impiegati e degli addetti all'agricoltura. Non voglio anticipare nulla, in 2002 con risultati molto importanti ma ci saranno il Presidente Piazza e il Direttore Diacetti che poi illustreranno la relazione. Io invece voglio dare subito la parola al Sottosegretario all'Economia Federico Freni per un saluto istituzionale perché poi il Sottosegretario dovrà lasciare questi lavori per impegni istituzionali, sappiamo che il Governo è alle prese con la manovra di bilancio e quindi comprendiamo gli impegni del Sottosegretario. Quindi chiamerei subito al Palco il Sottosegretario Freni. Prego il Sottosegretario. Grazie, io parlo dal palco, anzitutto buongiorno a tutti, parlo dal palco per una mia scaramanzia, io ho parlato tante volte in questa sala e ho sempre parlato dal podio, poi una volta mi capitò di parlare seduto perché non so come si scelze di parlare seduti e quella giornata andò malissimo e quindi da quel giorno ho deciso che ogni volta che vengo qui parlerò dal podio, scusandomi con tutti gli altri ma per scaramanzia parlerò dal podio. Doppie scuse, la prima scusa per dovermi abbandonare quasi subito, però purtroppo vedete quando io entrai al MEF nel Governo Draghi il Ministro mi disse sappi che c'è una sola regola, non prendere mai appuntamenti in sessione di bilancio, mai, perché tanto salteranno tutti e in effetti questa mattina io avevo la Camera Commissione Finanze prevista a mezzogiorno e mezzo che come voleva si dimostrare è stata anticipata alle 11 e mezzo, quindi si rispetta, però pur di non annullare l'appuntamento e vi chiedo scusa e chiedo scusa a tutti voi di aver dovuto anticipare il mio intervento, quindi non potrò commentare la relazione, mi dovrò limitare a, come dire, salutarvi e a dirvi qualcosa di più. Le seconde scuse invece sono le scuse per un intervento che nasce, come dire, nell'ambito di ciò che si vorrebbe e non di ciò che è stato fatto. Ciò che è stato fatto, per Empaia ovviamente lo dirà molto meglio di me, chi parlerà dopo di me, il mio intervento è un intervento non su ciò che, pur avendo avuto questa delega anche nello scorso governo, è stato fatto per il mondo delle casse, ma su ciò che, come dire, vorremmo fosse fatto in questo governo, ovviamente con l'ambizione di trovarci qui il prossimo anno a presentare risultati ancora migliori di questi, ma vi prego, ove dovessi il prossimo anno presentarvi ancora queste scuse, rimandatevi a casa, perché ovviamente se quest'anno può essere accettabile dire cosa vorremmo fare, l'anno prossimo mi auguro che, come governo, potremmo dire ciò che abbiamo fatto e non ciò che vorremmo fare. Detto questo, nulla sua Empaia, come detto, il Presidente Piazza più e meglio di me potrà dire i risultati della gestione, qualcosa sul mondo delle casse, un punto di partenza secondo me che deve contraddistinguere l'attività del decisore politico rispetto alle casse, coraggio e il realismo. Coraggio e il realismo perché coraggio di rompere quella foresta pietrificata che da troppo tempo impedisce di camminare all'interno del mondo della gestione degli investimenti delle casse, rompere una foresta pietrificata che impedisce quella flessibilità che io credo necessario necessaria, strutturale per il mondo delle casse. Quella foresta pietrificata che non ci consente ancora oggi di avere una gestione del comparto degli investimenti del mondo delle casse adeguata a quello che è il mercato di oggi. Personalmente ho la mia ricetta, personalmente credo che una maggiore flessibilità nelle possibilità di investimento delle casse sia la ricetta corretta, senza ovviamente abbiurare al ruolo di controllo e gestione che il Ministero dell'Economia e il Ministero del Lavoro devono avere sul mondo delle casse, ma il controllo deve essere in buona parte successivo e non necessariamente sempre preventivo, il controllo deve essere un controllo a cornice e non puntuale, quindi il vecchio, usuale tema del regolamento di investimenti forse è il caso che noi tutti si si metta seriamente con prospettiva, ma anche con realismo appunto, a ripensarlo e a ripensarlo nell'ottica di garantire al mondo delle casse quella flessibilità di cui ha bisogno. Realismo che ci deve però anche portare a dire che il mondo delle casse non è più il mondo delle casse che conoscevamo negli anni 90, tantomeno quello che conoscevamo negli anni 2000, è un mondo in cui le basi contributive vanno impoverendosi, ma vanno impoverendosi non perché le gestioni non funzionano, vanno impoverendosi perché la società cambia, vanno impoverendosi perché il mondo delle libere professioni non è più a livello reddituale e a livello di composizione numerica quello che era negli anni 80, 90 e 2000. Quindi se noi saremo in grado, tutti noi, le casse e il governo insieme, perché guardate se c'è una cosa che personalmente non accetterò mai è che casse e governo non ragionino insieme, vale reciproco, il governo deve ragionare insieme alle casse, le casse devono ragionare insieme al governo, da soli non si va da nessuna parte. Quindi se insieme ci renderemo conto che l'evoluzione del sottostante, quindi l'evoluzione del mondo del lavoro privato, è un'evoluzione che ci ha portato in una situazione diversa da quella che immaginavamo nel 1994 o che immaginavamo anche nel 2004 o anche nel 2010 probabilmente, se dico partiremo da questa considerazione potremmo immaginare di, non dico neanche, avete presente una macchina quando si fa il restyling di metà percorso, non è che si cambia tutto, si fa un restyling, non è che bisogna stravolgerlo il modello della macchina, no, si fa un bel restyling di metà percorso, ecco, di fare un bel restyling di metà percorso alla nostra macchina e di continuare tutti insieme felicemente a guidare questa macchina, ma potremo guidarla al passo con i tempi solo se saremo tutti consapevoli che qualche aggiustamento insieme dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo nell'ottica di una sostenibilità sempre maggiore, dobbiamo farlo nell'ottica di una differenziazione dell'investimento, di un aumento degli investimenti nell'economia reale garantendo ovviamente la sicurezza dell'investimento, che è la prima cosa, dobbiamo farlo cercando di valorizzare quanto più possibile gli investimenti di secondo pilastro e quindi non necessariamente concentrandoci sempre e solo sul primo pilastro ma anche sul secondo e dobbiamo certamente immaginare, almeno questa è la mia ambizione, di poter lasciare questo mondo delle casse, io mi auguro tra cinque anni, migliore di come l'abbiamo trovato, ma tutto questo lo potremo fare soltanto se lo faremo insieme. Io come dire ho grande fastidio per quel decisore politico quale che esso sia che pensa di poter amministrare un settore senza conoscerlo, senza ascoltarlo, senza lavorare fianco a fianco con quel settore. Credo che la buona normazione sia figlia soltanto dell'ascolto e del lavorare insieme. Ecco, questo credo sia il punto di partenza, ascolto da parte del governo, lavorare insieme. Lavorare insieme ovviamente non vuol dire necessariamente aderire a tutte le richieste del comparto, vuol dire lavorare insieme in una comune direzione. E poi vi dico, in tutto questo vi lascio con una battuta, ho anche un interesse personale, perché io da avvocato, ancorché cancellato dall'albo da due anni, ho mantenuto l'iscrizione alla Cassa Forense. Quindi tutto sommato se le casse vanno bene, se la previdenza privata va bene, forse anche la mia pensione un giorno non sarà poi così terribile. Quindi, e così ho denunciato il conflitto di interessi che ho nella vicenda. Però, anche se non ne sono più contributore, perché voi sapete posso mantenere l'iscrizione, ma non posso più contribuire, aggiungo per fortuna, perché se contribuivo pure alla Cassa Forense oltre all'Inps andavo fallito. Detto questo, vi lascio e vi ringrazio solo con questo invito. Ricordiamoci sempre che se saremo capaci di sederci tutti insieme attorno a un tavolo, riusciremo insieme a dare a questo Paese e al mondo delle casse la riforma più giusta. Se seguiremo tutti indistintamente governo e mondo della previdenza, i particolarismi di qualcuno o di qualcosa, certamente non faremo un buon lavoro e non faremo un buon servizio nel nostro Paese. Vi ringrazio. E mi scuso ancora, ma devo abbandonarmi. Bene, io ringrazio il sottosegretario Freni e ovviamente noi tra un anno saremo qui da buoni giornalisti a fare il fact-checking di quello che ha promesso. A disposizione per ogni fact-checking. Tra un anno ci vediamo qui e facciamo... Perfetto. Grazie ancora. Io a questo punto entrerei nel vivo della relazione e darei la parola al presidente della Fondazione Empaia, Giorgio Piazza. Diciamo che la relazione riguarda il 2021. Il 2021 è stato l'anno di uscita dalla pandemia, un anno comunque complesso, complicato, sfidante. E da quello che ho visto io, devo dire che la Fondazione ha avuto degli ottimi risultati, di cui ora parleremo. Prego, presidente. Grazie. Buongiorno a tutti. Saluto particolarmente tutti gli intervenuti, in particolare le autorità. Magari credo poi ci sarà anche la possibilità di avere dei collegamenti, colleghi presenti. Allora, la riunione di oggi, che ormai sta diventando una piacevole consuetudine delle nostre agende, ci offre l'occasione di riflettere sul percorso che la Fondazione Empaia ha intrapreso, sulle sfide che siamo chiamati ad affrontare e sul modo in cui vogliamo affrontarle. Il contesto in cui opera la Fondazione appare sempre più complesso e problematico. Dal 2020 ci stiamo confrontando con gli effetti della pandemia, i comportamenti virtuosi che abbiamo ottenuto sia a livello individuale, sia a livello di corpi economici e sociali. Unitamente al successo della campagna vaccinale, ci stanno permettendo di superare l'emergenza sanitaria e ritornando ad uno stile di vita pressoché uguale a quello che avevamo prima della pandemia. Ancora una volta ritengo doveroso rivolgere un pensiero di vicinanza alle famiglie colpite dalla perdita dei loro cari a causa del virus. Desidero inoltre ringraziare gli addetti della filiera agricola ad ogni livello che con il loro lavoro hanno costantemente assicurato i rifornimenti agricoli e alimentari senza che nessuna interruzione intervenisse nella catena di produzione e di distribuzione e di vendita. Anche nei periodi più bui dell'emergenza pandemica. L'agricoltura ha confermato il suo ruolo strategico non solo sotto il profilo economico ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale. La ripresa delle usuali attività sociali ed economiche ha avuto come effetto quello di innescare una poderosa ripresa dell'economia di cui hanno beneficiato tutti i settori. Anche i mercati finanziari hanno fatto reagire significativi rialzi delle quotazioni. L'Unione Europea, inoltre, attraverso il PNRR ha mette a disposizione risorse particolarmente significative per rafforzare la ripresa economica e sanare i danni prodotti dalla pandemia. Con il poderoso rilancio delle attività economiche, tuttavia, alcuni contraccolpi negativi non hanno tardato a verificarsi. Il boom della domanda ha avuto un riflesso sui prezzi delle materie prime. Inoltre, ritardi e rallentamenti delle forniture e nei processi produttivi non hanno tardato a verificarsi. I colli di bottiglia nelle catene di produzione sono stati aggravati dall'approccio particolarmente restrittivo adottato da alcuni paesi dell'Estremo Oriente nella gestione della pandemia, come ad esempio la Cina, ancora impostata sul rigido e prolungato blocco delle attività economiche e sociali per contrastare la diffusione del virus. Con il trascorrere dei mesi, tali difficoltà hanno iniziato ad impattare sempre più negativamente sulle dinamiche dei prezzi, dei beni e dei servizi. L'invasione dell'Ucraina, poi, ad opera della Russia, con l'attivazione delle sanzioni agli scambi economici e finanziari, ha accelerato vertiginamente la spirale inflazionistica. I contraccolpi sono particolarmente pesanti per le materie prime energetiche ed alimentari. La spirale dei prezzi sta spingendo le banche centrali ad accelerare il processo di normalizzazione delle politiche monetarie e nel corso del 2022 stiamo assistendo a molteplici manovre sui tassi di interesse che vengono aumentati in misura significativa. Il timore è che le politiche di normalizzazione monetaria, unitamente alla riduzione dei redditi disponibili per le famiglie, possano ralentare la ripresa fino ad innescare fasi recessive dell'economia. Oltre ai rischi di carattere economico e geopolitico, stanno diventando sempre più perniciosi gli effetti dei cambiamenti climatici. Nel 2021 si è stimato un danno di oltre 2 miliardi di euro per il settore agricolo. Derivante dalle anomalie climatiche, il 2022 si è caratterizzato per la presenza di periodi prolungati di temperature particolarmente elevate, unitamente alla scassità di pioggia. Questi ultimi, inoltre, quando si verificano, assumono carattere alluvionale con effetti devastanti sulle attività umane, come di recente si è verificato nella regione delle Marche. La forza dei rischi climatici impatta su un duplice piano l'attività della Fondazione. Da una parte, gli ingenti danni alle coltivazioni e all'attività di filiera minano la capacità operativa delle riprese e, in ultima analisi, la possibilità di generare flussi contributivi. Dall'altra, nella gestione del patrimonio della Fondazione, la mancata considerazione di rischi ambientali del modello di gestione del rischio significherebbe assumere scelte di investimento troppo azzardate. In un mare sempre più complesso da navigare, la Fondazione Impaia continua a lavorare con serenità, assolvendo puntualmente e con precisione la sua missione istituzionale. Ringrazio tutto il personale della Fondazione, i componenti dell'Organo di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale Roberto Di Accetti. I risultati del 2021, i migliori degli ultimi anni, testimoniano la dedizione, la passione e la professionalità del vostro lavoro e ve ne ringrazio. Il 2021 si è chiuso con la migliore performance degli ultimi anni. Ciò avviene per il secondo anno di seguito. A dicembre 2021 risultavano iscritti della Fondazione 39.003 lavoratori, più 0,8% sul 2020, impiegati presso 8.826 aziende, più 2,3%. Il 52,5% degli iscritti era di genere maschile a fronte del 47,5% appartenente a quello femminile, con le donne che rappresentano la maggioranza degli iscritti nelle classi di età fino a 50 anni. L'Emilia-Romagna si conferma la regione con il maggior numero di iscritti attivi, oltre 6.000, seguiti da Veneto, Toscana, Lombardia. Nel corso del 2021 la Fondazione ha erogato prestazioni agli iscritti per 161.455.460 euro, in aumento del 10% rispetto al 2020, quando erano state pari a 146.648.027 euro. Le entrate contributive accertate sono state complessivamente pari a 150.904.726 euro, in crescita del 3,9% rispetto al 2020, quando avevano raggiunto la cifra di 145.216.092 euro. L'esercizio si è chiuso con un utile di oltre 38 milioni di euro, oltre il doppio rispetto al dato già molto positivo di consuntivo per il 2020, 18 milioni di euro, più 18% rispetto al 2019. Tale rimarchevole risultato e da scrivere all'ottima performance conseguita con la gestione del patrimonio della Fondazione, sia mobiliare e sia immobiliare. Il rendimento della gestione immobiliare è passato dal 3,67% del 2020, più 3,67%, a un più 4,79%. Il rendimento netto della gestione immobiliare si è testato a un più 0,61%. Nel complesso, la gestione finanziaria archivia il 2022 con risultati positivi e in crescita rispetto al 2020. La reddittività si attesta a valori superiori rispetto a quelli del precedente esercizio, sia a valori di libro, sia a valori di mercato. In particolare, a valori contabili, a valori contabili, il rendimento è stato pari al 4,88%, più 4,88%, rispetto al più 3,30% del 2020 e a valori di mercato si è testato a più 4,32%, rispetto al 2,83% del 2020. Il valore complessivo del patrimonio della Fondazione è stato pari a 2,241,194,175 euro. Le ultime stime disponibili collocano il rapporto di finanziamento della Fondazione al 122,6%, un dato che testimoni all'ottima salute dell'ente e la bontà delle scelte gestionali attuate. Nel 2021 è proseguito con forza l'allineamento del portafoglio e gli obiettivi dell'asset allocation strategica con dismissioni del portafoglio assicurativo, essenzialmente i titoli di Stato, e la sottoscrizione di quoti di OICR sia armonizzati, soprattutto con sottostante azionario, sia alternativi, cosiddetti FIA, fondi di investimento alternativi. Nel 2021, attraverso l'acquisizione del 50% del fondo immobiliare Rubens, è stato perfezionato l'investimento nella torre PWC di Milano, City Life, uno dei migliori immobili di pregio presenti a livello nazionale. L'investimento assicura una redditività del più 4,8%. È proseguito il processo di dismissione degli immobili con basso rendimento. Il progetto di alienazione sta proseguendo anche quest'anno, in corso, anche nell'anno in corso, e la fondazione punta a concludere entro l'inizio del 2023. Anche attraverso una procedura competitiva, cosiddetto Beauty Contest, più semplice ed efficace per la vendita in blocco delle unità immobiliari invendute tramite trattativa diretta. Il piano di rotazione del portafoglio immobiliare ha come obiettivo quello di aumentare la redditività della componente real estate, incrementandola dall'attuale rendimento netto di poco inferiore all'1% a un provento netto del 3%. La decisione della fondazione di procedere con maggiore decisione sul versante degli investimenti liquidi, oltre che ad obiettivi di sostenibilità dell'ente e di adeguatezza delle prestazioni, risponde alla volontà di avere un ruolo propulsivo nel rilancio dell'economia italiana e in special modo nel settore agroalimentare. Inoltre, la scelta di riposizionare il portafoglio rispetto al debito sovrano, soprattutto nazionale, e al contempo di aumentare l'esposizione nei confronti degli strumenti finanziari che consentono di coprirsi da rischio inflattivo, appare coerente con l'obiettivo di tutelare gli interessi degli iscritti nell'attuale contesto macroeconomico e finanziario. Da una parte, infatti, la riduzione dell'esposizione nei confronti del debito pubblico, soprattutto italiano, consente di ridurre le perdite in conto capitale conseguenti all'aumento di tassi di interesse. Dall'altro, la crescita della componente obbligazionaria indicizzata all'inflazione e il riposizionamento dell'allocazione immobiliare offrono un valido strumento di copertura del rischio inflazione. La Fondazione è pronta a cogliere le opportunità di investimento sul versante obbligazionario governativo che conseguono dall'aumento degli tassi di interesse in atto, tenendo conto dei mutamenti nel profilo di rischio degli emittenti pubblici. Le ingente risorse del PNRR, fortemente orientate ai temi della sostenibilità ambientale, rappresentano un ulteriore stimolo per supportare l'economia italiana e la filiera agricola in particolare, rispetto al quale la Fondazione si farà trovare pronta. L'Osservatorio del mondo agricolo Empia Censi si è evidenziato una forte riduzione degli investimenti in Italia nel bienio 2019-2020. La contrazione degli investimenti è stata in termini reali del meno 9,2%. Tuttavia, nel primo trimestre del 2021 si è registrata un'inversione di tendenza con una crescita degli investimenti del più 13,2%. In tale contesto, le casse di previdenza possono essere protagonisti nel rilanciare gli investimenti a vantaggio dell'economia italiana. Tuttavia, non si può non notare come a fronte di tali opportunità e disponibilità la cornice fiscale vigente per le casse di previdenza non appaia adeguata. La presenza di regole tributarie più favorevoli costituirebbe indubbiamente un ulteriore pungolo alla nostra volontà di investire a favore dell'intero sistema del Paese. Innalzamento dal 5% al 10% della quota dell'attivo patrimoniale che può essere allocata in investimenti qualificati beneficiando dell'esenzione fiscale sui rendimenti maturati mantenendo l'investimento in portafoglio per almeno 5 anni e il contestuale ampliamento delle classi di attivo che possono avvantaggiarsi di tale agevolazione alle quote o azioni di fondi di venture capital residenti in Italia negli Stati membri della Unione Europea e dello spazio economico europeo rappresenta un importante passo avanti. Perdurano tuttavia le storture che appesantiscono il regime fiscale degli enti di previdenza privati rispetto a quanto previsto per i fondi pensione di cui il decreto legislativo 252 del 2005. Nonostante si tratti in entrambi i casi di strumenti ideati per l'accumulazione previdenziale la fiscalità di vantaggio applicata ai fondi pensione è più favorevole rispetto a quella prevista per gli enti di previdenza privati. La distorsione riguarda sia l'aliquota applicata per la tassazione di rendimenti derivanti da investimenti diversi dai titoli di Stato 26% per le casse di previdenza rispetto al 20% applicato agli schemi di secondo pilastro sia le modalità di imposizione fiscale delle prestazioni pensionistiche al netto dei rendimenti conseguiti per i fondi pensione all'ordo dei rendimenti per le casse di previdenza. In questo modo la redditività realizzata dagli enti di previdenza privati è soggetta a una duplice tassazione pertanto invitiamo le forze politiche a rimuovere quanto prima questa ingiusta penalizzazione. L'auspicato aumento di nostri investimenti nell'economia reale passa anche dall'accrescimento del grado di responsabilità delle strutture di governo. Negli ultimi anni gli enti hanno compiuto passi importanti in tale direzione tuttavia una possibile evoluzione del quadro normativo potrebbe rappresentare un utile passo nella giusta direzione ad esempio l'emanazione del decreto sui limiti agli investimenti previsto dall'annoso ormai decreto legislativo 98 del 2011 emendato dai profili critici quali le norme sul codice di appalti per l'affidamento dei mandati di gestione e del depositario oltre che talune percentuali di allocazione per specifiche classi di attivo. Altro tema rilevante è la revisione del complesso e articolato assetto di vigilanza tale sistema prevede tra l'altro la presenza dei ministeri del lavoro dell'economia delle finanze della commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza della corte dei conti della covid una revisione legislativa di tale assetto appare opportuna e potrebbe condurre ad un ulteriore innalzamento dell'efficacia dei controlli volti a prevenire in un'ottica di valutazione e gestione del rischio scelte poco coerenti con le finalità istituzionali degli enti la fondazione sta portando avanti un percorso di efficientamento e ammordenamento dei processi delle strutture e delle dotazioni informatiche l'introduzione delle innovazioni digitali riguarda anche la gestione dei rapporti con gli iscritti tali evoluzioni ci consentiranno di offrire loro servizi sempre più ampi efficienti ed efficaci nel corso del 2021 è stata ultimata la revisione dell'app 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 l'applicazione Empaya e del sito internet della fondazione ed è stato istituito un nuovo sistema di chat per agevolare la comunicazione con i nostri iscritti la fondazione ha continuato ad incoraggiare il cosiddetto smart working per tutelare la salute dei propri dipendenti e a tal fine si è reso necessario semplificare alcuni processi lavorativi e incrementare e migliorare la dotazione strumentale per facilitare il lavoro da remoto nel corso del 2021 è iniziato inoltre un progetto di materializzazione dei documenti che permetterà di semplificare il lavoro dei dipendenti e offrire allo stesso tempo un servizio più efficiente agli iscritti si sta procedendo all'aggiornamento dei principali software della gestione previdenziale dato che quelli presistenti sono ormai vetusti e non rispondono più alle esigenze dei nostri iscritti da ultimo a marzo di quest'anno la fondazione ha introdotto la modalità di pagamento mediante piattaforma pago PA che garantisce agli iscritti sicurezza affidabilità e semplicità nei pagamenti introduzione di nuovi sistemi gestionali richiede la revisione delle procedure interne che è proseguita nel 2021 e che si punta a concludere entro l'anno in corso con l'emanazione del nuovo manuale delle procedure a tal fine voglio ringraziare le funzioni internal audit e risk manager senza la cui collaborazione tale opera non sarebbe stata possibile si è conclusa la revisione del regolamento di amministrazione e contabilità della fondazione che il consiglio di amministrazione è chiamato ad adottare in corso d'anno come ho già avuto modo di ricordare tutti gli sforzi di cui vi ho dato conto non sarebbero stati possibili senza la dedizione dei dipendenti della fondazione la valorizzazione delle risorse interne è un obiettivo imprescindibile se vogliamo che l'ente continui a ben operare come ha fatto tanto più nell'ambiente è sempre più complesso in cui siamo chiamati ad operare la fondazione condivide tale obiettivo e lo sta supportando effettivamente nel 2021 è proseguito il programma di formazione e aggiornamento del personale tale investimento sta già producendo i risultati non trascurabili nel 2021 i costi di consulenza sono diminuiti del 14% rispetto al 2020 grazie al maggiore utilizzo delle risorse interne e al contestuale minore ricorso di figure professionali esterne l'investimento nel capitale umano la modernamento del sistema informatico l'aggiornamento delle procedure organizzative consentiranno alla fondazione di competere con le realtà previdenziali e assistenziali presenti in uno scenario nazionale e internazionale e di rispondere con un sistema più moderno ed efficace alle istanze provenienti dagli iscritti per concludere nel 2021 la fondazione ha operato con tutti gli strumenti idonei a interpretare il mondo dell'economia e della finanza in ottica di opportunità per le proprie finalità istituzionali e per aprirsi a nuove sfide questa è la via da percorrere anche per il futuro e l'ente intende continuare a intraprendere tale percorso senza rallentamenti o deviazioni investimenti e sostenibilità sono due temi chiave dell'azione della fondazione l'ente sta giocando un ruolo da protagonista nell'attuale contesto economico e finanziario lo stiamo facendo con la saggezza e la diligenza dell'investitore prudente che ha sempre contrassegnato la gestione della fondazione e al contempo nella consapevolezza delle opportunità e delle ricadute positive per i nostri stakeholder alle istituzioni il compito di condividere e supportare i nostri obiettivi attuando un assetto normativo e fiscale adeguato alle sfide della nuova normalità imposta dalla pandemia grazie io ringrazio il presidente Piazza per la sua relazione per i numerosi temi di spunto che ci ha dato poi per la successiva tavola rotonda intanto vorrei chiamare invece sempre al palco il direttore generale della fondazione Roberto Diacetti che ci illustrerà invece un po' quelli che sono nel dettaglio i dati dell'ente e ciò che la fondazione si propone di fare anche per l'economia reale nel prossimo anno prego direttore grazie buongiorno a tutti innanzitutto un cordiale saluto a tutti i relatori e rappresentanti delle nostre fonti istitutive ai nostri consiglieri di amministrazione e membri del collegio sindacale con i quali lavoriamo ogni giorno e stiamo condividendo un percorso sicuramente positivo per la fondazione l'Empaia è bene ricordarlo è una cassa previdenziale che ha sicuramente delle peculiarità perché gestisce un pezzo di previdenza del mondo dell'agricoltura dei dipendenti dei dirigenti del mondo dell'agricoltura gestisce in particolar modo tre fondi quello di il conto di previdenza individuale il trattamento di fine rapporto ma anche l'assicurazione in fortuni professionali l'Empaia però ci deniamo a dirlo è la casa della previdenza agricola perché dentro l'Empaia trovano ospitalità e sono hanno una rilevanza pari alla gestione ordinaria le gestioni separate quella dei periti agrarie e degli acrotecnici e anche la gestione speciale diretta a gestire l'accanturamento dell'acquiescenza dei dipendenti dei consorsi di bonifica peraltro abbiamo anche gestiamo anche in service due fondi legati al mondo della sanità il FIA e Agrifondo che rappresenta la previdenza complementare del mondo dell'agroduttura quindi è una realtà articolata che vuole rappresentare appunto la casa della previdenza agricola nell'ambito della quale delle fonti istitutivi che rappresentano da una parte i datori di lavoro e dall'altra le organizzazioni sindacali hanno creato un modello ovviamente privatistico di gestione di una funzione pubblica rivolta a dare dei servizi non solo previdenziali ma anche assistenziali nei confronti appunto della platea di riferimento gli iscritti crescono crescono negli ultimi cinque anni lo vedremo del 5% è una crescita lenta ma sistematica pensiamo peraltro nel 2022 di poter toccare i 40.000 iscritti e le 9.000 aziende attive lo ricordava il presidente in precedenza negli ultimi anni siamo cresciuti in termini di iscritti del 5% la maggioranza degli iscritti è collocabile nell'età tra i 30 e i 50 con una presenza femminile importante proprio in quella fascia di età l'Emilia Romagna il Veneto la Toscana e la Lombardia sono le regioni con il più alto numero di iscritti la previdenza non mi soffermo moltissimo la previdenza ordinaria è una providenza ovviamente in equilibrio i nostri bilanci tecnici evidenziano una sostenibilità di lungo periodo aumentano l'attività di accertamento dei contributi e della riscossione e aumentano anche le prestazioni erogate gestione speciale vediamo qualche segno meno frutto di un momento storico particolare legato anche qui a dei bilanci che evidenziano una sostenibilità ma oggi abbiamo una curva che probabilmente nel giro di due anni invertilata tendenza che riporterà la positività rispetto alla riserva utilizzata per erogare le prestazioni le gestioni separate sono quelle più giovani ovviamente si avvalgono di un sistema che è totalmente contributivo e vediamo tutti i segni più sia nell'accertamento dei contributi nella riscossione ma soprattutto nella reglazione delle prestazioni in questo caso c'è un'ampia copertura delle prestazioni a fronte dei contributi che vengono accertati il patrimonio dell'Empaia ecco ho piacere di fornirvi qualche dato sul 2021 che è già stato dato ma di fornirvi un outlook sul 2022 e poi il 2021 sta in un anno molto positivo per l'Empaia e devo dire in generale per gli investitori istituzionali e le casse previdenziali il 2022 ci offre un outlook molto diverso e comunque positivo il patrimonio dell'Empaia vale circa 2,2 miliardi la gran parte è investita in strumenti finanziari un pezzo di liquidità 480 milioni è la parte immobiliare la gestione finanziaria segna nel 2021 4,79% di rendimento netto nel 2022 e questo è un dato ancora come dire da accertare e da consolidare nelle prossime settimane il rendimento netto si colloca intorno al 4,9% mi sembra di poter dire che sia un risultato interessante soprattutto e ancora di più nel 2022 in cui vedremo si sono inserite una serie di variabili esterne rispetto alla gestione della fondazione su tutte la volatilità dei mercati e l'impennata dell'inflazione ho evidenziato alcuni focus particolari come investiamo le nostre risorse le investiamo innanzitutto in modo prudente ma con la convinzione che possiamo raggiungere risultati più interessanti anche dando supporto al nostro sistema di riferimento e all'economia reale italiana lo facciamo investendo innanzitutto in fondi infrastrutturali perché sono fondi che erogano delle cedole che ovviamente quindi implementano i flussi di liquidità della fondazione si pensa ad esempio a Telepass abbiamo fatto un investimento in Telepass perché pensiamo che quel tipo di infrastruttura dia solidità all'investimento sia prudente ma al contempo si eroghi una liquidità in questo caso addirittura semestrale abbiamo investito poi nella nostra economia di riferimento due investimenti ne abbiamo fatti altri li richiamo bonifiche ferrarese e masi agricola dove abbiamo delle aziende quotate in borsa di riferimento del nostro comparto abbiamo piacere di diventare azionisti in quanto come azionisti e investitori pazienti possiamo supportare un progetto di sviluppo di lungo periodo abbiamo anche impegnato le nostre eserze in una serie di diciamo così progetti strategici investimenti direi sistemici per la fondazione sempre all'insegna dell'economia reale è l'investimento nel fondo italiano di investimento cioè nella SGR che gestisce il private per conto di cassa depositi e prestiti siamo entrati nella compagina azionaria insieme a un'altra cassa di previdenza l'EMPAM e pensiamo che non soltanto partecipando ai loro investimenti ma stando nella cabina di regia del CDI e della governance possiamo dare il nostro contributo affinché quei fondi che vengano creati siano di maggiore supporto all'economia reale italiana e in particolar modo all'economia agricola allo stesso modo vanno valutati alcuni investimenti di portata finanziaria in enti bancari in istruzioni bancarie mi riferisco a Intesa San Paolo e Banco BPM l'immobiliare storicamente le casse di previdenza hanno un consistente patrimonio immobiliare anche la fondazione Empaia ha un interessante significativo patrimonio immobiliare che abbiamo deciso però nel tempo di portare intorno all'asticella del 20% del nostro portafoglio quando iniziamo 5 anni fa il lavoro sulla nuova definizione del portafoglio immobiliare di Empaia la quota dell'immobiliare valeva il 27% oggi siamo collocati intorno al 22% ma soprattutto abbiamo avviato in questi anni un turn around molto interessante meno residenziale più direzionale guardiamo con grande interesse all'alberghiero e tutto questo ci ha portato un innalzamento ovviamente dei valori di riferimento della nostra redditività quel valore è molto alto anche perché sconta sicuramente delle plusvalenze eccezionali ma siamo passati da una gestione dell'immobiliare che anche per la vetustà degli immobili valeva 0,50 0,70 di redditività all'anno oggi ad una redditività al netto delle plusvalenze che si aggira intorno al 3 3,5% ricordiamo a tutti peraltro ne abbiamo dato anche comunicazione sulla stampa nazionale l'anno scorso abbiamo comprato il 50% del fondo immobiliare che è proprietario della torre cosiddetta PwC di Milano insieme ad assicurazioni generali è stato un investimento importante di 160 milioni di euro e abbiamo investito ancora quest'anno in due immobili direzionali a Milano che ci danno una redditività addirittura superiore al 6% la strada è tracciata ovviamente la stiamo realizzando anche con le difficoltà tipiche di questo tipo di turnaround non stiamo vendendo cielo terra stiamo comunque facilitando i nostri conduttori perché dobbiamo ricordarci che storicamente questi immobili sono stati molto spesso comprati con i contributi ovviamente dello Stato e quindi abbiamo anche una funzione sociale da preservare e laddove possiamo in qualche modo i conduttori li agevoliamo nell'acquisto chi non compra gli appartamenti residuali sono stati collocati in un'operazione più complessa che abbiamo avviato proprio in questi giorni un beauty contest che porterà a vendere un portafoglio residuale tutto collocato su Roma di circa 100 milioni di euro il patrimonio netto nel 2017 nel 2021 era 154 milioni non vedete il dato del 2017 che era intorno ai 115 120 milioni oggi andiamo a superare i 200 milioni di patrimonio netto vuol dire che i vari avanzi di gestione che abbiamo accumulato anche al netto di una modesta diciamo così modesto disavanzo previdenziale hanno portato alla crescita del nostro patrimonio netto ultima slide l'outlook 2022 il 2022 è un anno molto diverso dal 2021 il 2021 avevamo tutti il vento in poppa tutti le casse previdenziali gli investitori istituzionali poi nulla è scontato perché le scuole comunque vanno affittuate nel segno dell'efficienza e ovviamente della prudenza ma certo è che immediatamente i portafogli dei investitori istituzionali nel 2021 hanno tutti avuto segno positivo la guerra ha cambiato totalmente gli equilibri come anche l'inflazione l'impennata dell'inflazione al 9% nessuno se l'aspettava peraltro a noi incide profondamente sulla rivalutazione il coefficiente di rivalutazione del nostro TFR e soprattutto il tema geopolitico con un orizzonte che non è ancora definito crea molta incertezza quindi abbiamo avuto rialzo dei tassi di interesse che ha prodotto dei risultati positivi in termini di investimenti sulle obbligazioni governative un incremento notevole dell'inflazione una grande volatilità dei mercati la fondazione nel 2022 possiamo annunciarla molto probabilmente riuscirà comunque a chiudere il proprio bilancio in positivo ma ovviamente con le difficoltà tipiche di questo momento storico e grazie lo sottolineo alla resilienza del proprio portafoglio finanziario e anche immobiliare oggi il portafoglio finanziario di Empaia perde circa il 6-7% rispetto a una media degli asset manager e anche di alcuni altri investitori che si colloca a 12-15% quindi possiamo dire di aver effettuato degli investimenti che hanno reso e tutto sommato sono stati resilienti rispetto al mercato di riferimento il portafoglio finanziario ci dà ancora una rettività molto interessante così come quello immobiliare chiudo purtroppo non c'è il sottosegretario freni ma come dire lo annotiamo agli atti di questa relazione un auspicio sul 2023 il 2023 è probabile che sarà molto simile al 2022 se non cambieranno le sorti e speriamo ovviamente che succeda della guerra in Ucraina si immagina che ci possa essere un abbassamento dell'inflazione ma speriamo che non si collochi insieme a una ipotetica recessione di cui potenziale recessione di cui tutti parlano ma in verità l'argomento che volevo lasciare all'attenzione di questo uditorio e poi anche degli altri relatori è quello dell'economia reale e cioè le casse di previdenza innanzitutto fanno gli interessi fanno gli interessi esclusamente dei propri iscritti allocando le risorse nel modo migliore per avere il rendimento ma facendo questo abbiamo visto che sono in grado anche di sostenere in modo sano l'economia reale italiana e allora perché non immaginare che il 2023 dato che i dossier a sostegno dell'economia reale italiana sono molti ne dico uno su tutti la rete unica se ne parla tanto il tema di telecom ha la perché non immaginare di coinvolgere le casse previdenziali in un progetto stabile e strategico a mio parere questo progetto stabile e strategico si chiama cassa deposito e presti cioè come le fondazioni bancarie danno il loro contributo se tendo nella governanza e nell'azionariato di gasta depositi e prestiti immaginare non ne faccio un tema di poltrono ma un tema di governanza e di presenza strategica delle casse nei grandi dossier del paese più che chiamare le casse previdenziali su singoli dossier ieri MPS domani un altro dossier collocare le casse previdenziali nell'ambito di cassa depositi e presti significherebbe affiancarla alle fondazioni bancarie ricordo a tutti che oggi il patrimonio delle fondazioni bancarie ammonta più o meno a 40 miliardi quello delle casse previdenziali ha superato i 100 miliardi significa responsabilizzare le casse di previdenza ma farle partecipare a un progetto organico e di sviluppo complessivo del paese e allora anche poi la possibilità di intervenire sui singoli dossier è più facile è più comprensibile che ciascuno di noi obiettivamente può fare in modo che l'investimento della cassa sia anche un investimento a sostegno dell'economia reale italiana mi auguro che il governo apra un tavolo se ne parla da molto tempo il modo migliore è quello di aprire un dialogo con le casse previdenziali alcuni colleghi presidenti direttori su questo tema hanno idee diverse c'è sempre la paura che la partecipazione ad un veicolo insieme in questo caso peraltro CDP è il veicolo di sviluppo industriale del paese significa in qualche modo farsi espropriare di una propria autonomia di una propria decisione io non penso che sia così l'esperimento in fondo italiano di investimento sta funzionando allarghiamolo appunto a cassa depositi e prestiti grazie bene io ringrazio il direttore Diacetti lo ringrazio anche per gli interessanti spunti che ci ha dato ringrazio ancora di nuovo il senato per l'ospitalità che ci dà in questa meravigliosa sala e ricordo che siamo in diretta sulla web tv io a questo punto avvierei la nostra tavola rotonda qui a tavolo con me ovviamente oltre il presidente e il direttore ci sono Sandro Gambuzza vicepresidente di Confagricoltura il segretario generale di Fai CISL Onofrio Rota e Tiziana Stallone vicepresidente ADEP l'associazione delle casse di previdenza privata e io vorrei cominciare questo dibattito proprio dalla dottoressa Stallone lo stato di salute dell'Empire ci hanno raccontato è uno stato di salute buono io innanzitutto le vorrei chiedere qual è a questo punto lo stato di salute di tutte le altre casse previdenziali e sollecitarla un po' su quello che ci aveva detto il presidente Piazza se è vero che poi l'ha una delle principali criticità che deve affrontare il settore è questo carico fiscale inadeguato prego grazie per la parola grazie per l'invito e vi porto innanzitutto i saluti del presidente Olivetti quindi il presidente ADEP che al momento non può essere qui e davvero porgo i miei complimenti per la gestione di Empaya sia al suo presidente Giorgio Piazza sia a tutti gli amministratori che vedo presenti un saluto al collegio sindacale e un saluto al direttore arrivo direttamente al tema della domanda lo stato di salute del sistema casse è un sistema oggettivamente in buona salute lo riportano i dati del nostro centro studi comune siamo 18 casse al momento in ADEP di previdenza è una cassa assistenziale e attraverso il centro studi e i flussi di dati delle casse ogni anno produciamo rapporti rapporti investimenti rapporto previdenza e rapporto specifico welfare al momento per quanto riguarda la gestione la gestione caratteristica questa è tipicamente in positivo mi spiego meglio il patrimonio complessivo delle casse sta toccando i 108 miliardi quindi un patrimonio che noi sappiamo benissimo essere salario differito e il saldo tra le uscite contributive e le uscite per prestazioni e le entrate per contribuzione è un saldo positivo di 3 miliardi quindi un sistema stabile un sistema in crescita un sistema dove i redditi sono in crescita ovviamente i redditi medi nominali e quindi risentono della problematica inflattiva un sistema che sta contribuendo in maniera importante e significativa al nostro sistema paese con investimenti differenziati per ogni singola cassa quindi è molto apprezzabile ad esempio il lavoro che fa e impaia sul sostegno di tutti quelli che sono gli investimenti nel mondo agricolo perché questo non solo provoca di fatto un ritorno immediato di rendimento ma anche un sostegno appunto della professione stessa sugli investimenti adep noi parliamo di complessivamente un 53% del patrimonio investito in Italia e un 75% in Europa veniamo adesso ai dati sulla pressione fiscale una pressione importante una pressione iniqua parliamo del 26% di tutto quello che non è titolo di Stato e una doppia tassazione di fatto inspiegabile perché poi vengono tassati due volte attraverso le pensioni i rendimenti finanziari abbiamo anticipando un po' i dati che saranno presentati nel 12esimo rapporto previdenza adep il prossimo 13 dicembre abbiamo pagato complessivamente oltre 700 milioni di tasse e la nostra contribuzione per il welfare degli iscritti è di 550 milioni quindi una pressione fiscale che di fatto toglie la possibilità di impegnarci di più per i nostri iscritti ma una pressione fiscale che si riversa anche sulle prestazioni previdenziali questo vuol dire a fronte di rendimenti importanti a fronte di una gestione virtuosa avere delle pensioni più povere e questo inevitabilmente sarà un problema futuro della nostra Italia grazie grazie mille se me lo consente le vorrei fare una piccola domanda aggiuntiva perché ho trovato molto stimolante l'intervento del dottor Diacetti sulla qualità di investitori di lungo termine da parte delle casse e di un loro possibile impegno anche in futuro simile a quello delle fondazioni bancarie nella cassa depositi e preste diceva il direttore ci chiamano poi sui singoli dossier ma a noi sarebbe forse più utile avere un impegno strutturato è un tema che si sente di condividere prego devo dire ho apprezzato tutti gli interventi e in particolar modo l'intervento del direttore con il quale concordo adesso non entro in tema del veicolo possibile ma sicuramente degli investimenti strategici di quello che è diventato un sistema importante quindi il sistema delle casse è strettamente necessario noi siamo chiamati ogni anno a questo consuntivo che ci porta in qualche modo a tirare le somme di quella che è una realtà a brevissimo termine e che tante volte getta in allarme con dei dati in negativo ma non tiene conto di quella che è una visione strategica una visione prudenziale e come dimostrano poi dati alla mano quelli che sono dei terremoti finanziari che poi sono continui continui davvero dal 2009 ad oggi poi di fatto abbiano come dire una ripresa importante e solida che porta anche al riversamento sui montanti di extra rendimenti ho letto molto le attività di Empire e veramente mi congratulo con voi di quanto siete avanti anche con delle modifiche statutarie di questo tipo importanti quindi tornando prettamente alla domanda sì aprire dei fascicoli strategici di sistema sicuramente aiuta di più a sapere dove voler arrivare e guidare meglio questa macchina che ha un grande ruolo sociale non dobbiamo temere per la nostra autonomia anche perché la nostra forza è proprio la peculiarità della professione quindi la declinazione di tutte le azioni legate l'abbiamo sentito prima dal presidente piazza con le azioni sui dipendenti sugli imprenditori legati al sostegno in pandemia delle nostre platee ma benvenga e auspicabili investimenti futuri assieme perfetto io ringrazio di nuovo la dottoressa Stallone e a questo punto vorrei dare la parola al dottor Rota segretario generale della Fai CISL uno dei temi di cui abbiamo dibattuto è quello degli investimenti nell'economia reale che fanno le casse ecco dal suo punto di vista quanto sono importanti questi investimenti e un po' le vorrei chiedere anche quali sono i progetti futuri del sindacato nell'agricoltura e anche magari un rapido giudizio sulle misure che sono state inserite nell'ultima manovra di bilancio ho fatto una domanda molto larga una domanda molto larga no innanzitutto ringrazio il presidente il direttore tutti i consiglieri qui presenti i dipendenti dell'Empire a nome mio a nome dei colleghi qui presenti di Fai Fly e Willa è un'occasione importante perché leggevo nel documento della relazione dal 1936 questo ente ha avuto una grandissima intuizione tra le parti sociali datoriali e dei lavoratori e hanno veramente costruito una casa come veniva definita per l'agricoltura e sapere che le risorse dei lavoratori sono in buone mani e sono come dire messe a profitto garantiscono poi quello che sarà poi il percorso anche pensionistico dei lavoratori questo ci dà estremamente soddisfazione è chiaro che le sfide che oggi abbiamo di fronte sono enormi nel senso che il settore dell'agroalimentare è un settore che ha dimostrato di essere resiliente ma aggiungo ancora di più si è dimostrato essere asset strategico per tutto il paese io non smetterò mai di dirlo che con i suoi 570 miliardi e parlo di tutta la filiera dell'agricoltura la trasformazione la distribuzione è oggi un punto di riferimento importante e quindi oggi è un settore che può dare veramente grande soddisfazione anche al mondo del lavoro non dimentichiamo che ci sono ancora presenti un milione più di un milione di lavoratori in agricoltura e quindi una parte estremamente importante nel mondo del lavoro ecco abbiamo condiviso con molto interesse le scelte che l'ente ha fatto ultimamente quello di orientare anche gran parte delle risorse in investimenti diversi e anche in investimenti in economia reale per cui entrare sul tema dell'economia reale ci è sembrata una scelta giusta una scelta di sostegno al settore per cui quello che veniva citato prima delle bonifiche ferraresi piuttosto che della cantina Masi abbiamo condiviso con molto interesse questo investimento non ultimo anche gli investimenti immobiliari fatti sulla piazza di Milano l'empaia ha una sfida ulteriore per noi che è quella di come possiamo portare dentro l'empaia ancora in maniera più solida più strutturata ovviamente non sovrapposta ma a fianco la struttura della previdenza complementare struttura della previdenza complementare che nel settore agricolo è molto debole e che dentro l'empaia invece può trovare un sistema ben organizzato non soltanto finalizzato per il servizio ai lavoratori dipendenti ma io aggiungo anche al lavoratore autonomo che lavora in agricoltura che non siamo parlando dell'azienda strutturata o anche strutturata ma può avere uno spazio importante per essere rappresentato ecco è stata rivolta la domanda inoltre quali sono anche le aspettative noi oggi avremmo voluto avere guardo il collega qui davanti anche la presenza in maniera particolare del sottosegretario Durigon perché abbiamo delle sfide importanti con il prossimo con questo governo con il ministro dell'agricoltura in maniera particolare su tutto il tema legato alla condizionalità sociale condizionalità sociale che è un punto di forza per tutta l'agricoltura perché dovrebbe contribuire a ridurre quel dumping contrattuale che purtroppo alcune aziende non corrette applicano a danno di quelle aziende che sono rispettose delle norme contrattuali però c'è una norma che ci lascia molto e ci spaventa in maniera particolare che è tutta la materia legata ai cosiddetti voucher i voucher così come sono stati pensati non sono lavoro occasionale come prevede proprio la legge come prevedeva la legge ma rischia di diventare un lavoro strutturato mal tutelato e che potrebbe addirittura anzi non potrebbe indebolisce strutturalmente il lavoro dipendente in agricoltura mettendo anche in difficoltà anche le casse perché non va a alimentare in maniera adeguata quindi oggi avremmo voluto rivolgere un appello al governo al ministro del lavoro in maniera particolare al sottosegretario di Urigon al ministro dell'agricoltura di istituire subito un tavolo tecnico così come ho aperto soltanto le buone relazioni sindacali la grande capacità delle relazioni sindacali a trovare punti di equilibrio nel settore agroalimentare è stata sempre una risorsa importante quindi anche questo tema può trovare solo attraverso un tavolo di confronto trasversale dove mi sembra di aver già percepito che anche le parti datoriali sono disponibili a un confronto su questo tema aprire immediatamente un tavolo per confrontarci e per trovare delle soluzioni quindi posso soltanto esprimere un apprezzamento per il buon lavoro che Empaya sta facendo e penso che le sfide che abbiamo di fronte sono altrettanto importanti e anzi possono ancora di più consolidare l'impegno di Empaya grazie bene io ringrazio il dottor Rota e ci tengo soltanto a dire che il sottosegretario d'Urigon purtroppo non è qui perché ahimè ha l'influenza come altri 25 milioni di italiani pare che siano letto con l'influenza quindi a questo punto invece vorrei dare la parola a Sandro Gambuzza che è vicepresidente di Confragricoltura e un po' uno degli elementi che sono emersi dalla relazione e dal dibattito è questo il fatto che quest'anno ed il prossimo iniziamo un po' a navigare in una terra incognita abbiamo visto l'aumento delle materie prime abbiamo visto il balzo dell'inflazione abbiamo visto si stanno affrontando gli aumenti dei tassi di interesse della banca centrale sarebbe interessante capire qual è lo stato di salute del settore agricolo italiano delle imprese che lo compongono e un po' come stanno affrontando queste sfide oltre ovviamente a chiederle poi un commento sulla relazione dell'Empaia prego grazie per l'invito buongiorno a tutti grazie ovviamente al presidente al direttore all'intero OCDA di Empaia e quindi ai dipendenti saluto o diciamo le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e quindi io proverei se col suo permesso di invertire un po' la domanda prego dicendo che ovviamente partecipiamo con grande interesse all'evento di oggi che come ha detto il presidente rappresenta ormai sostanzialmente un un evento atteso ormai scadenziato ritengo e apprezziamo i notevoli risultati raggiunti da Empaia soprattutto anche gli obiettivi futuri che si è prefessata di raggiungere anche facendo riferimento a due a due elementi uno del presidente ed uno del direttore quello legato al fatto che Empaia si farà trovare assolutamente pronta per affrontare temi importanti legate alla sostenibilità e quindi alle transizioni che avranno ritengo impatto sulla base anche degli iscritti e dall'altro per quanto diceva il direttore con quella che poi sostanzialmente ritengo che sia anche non solo una proposta ma anche un progetto diciamo futuro legato grande contributo che Empaia può dare all'economia reale e se mi consentite non con interventi che chiamo spot ma insomma capisco che non siano corrette ma in modo organico all'economia reale del paese è un po' sulla scorta delle fondazioni bancarie cosa il direttore chiaramente io volevo sottolineare un altro aspetto il direttore ha detto l'Empaia rappresenta la casa della previdenza agricola io se mi permette aggiungerei un altro l'allungherei questa frase la completerei sostenuta da una solida base costituita dalle importanti relazioni industriali o meglio delle relazioni sindacali esistenti in questo comparto che devo dire l'hanno sempre connotato da questo punto di vista e per quanto riguarda il futuro io non faccio il riepilogo fra l'altro quello che è successo negli ultimi due anni probabilmente sono successe eventi che di regola succedono in un secolo probabilmente sono tutte ben delineate sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista economico ed anche da un punto di vista ambientale nella relazione dell'Empaia del presidente che ho letto prima di arrivare a questo evento e semmai è il futuro che chiaramente dovrà impegnarci con coraggio e realismo così come ha detto il sottosegretario freni anche nel mondo con coraggio accettando le sfide quelle della sostenibilità declinata nei tre pilastri che tutti ormai conosciamo della sostenibilità sociale della sostenibilità ambientale ma anche economica con il realismo legato al fatto che la sostenibilità io lo dico chiaramente lo diciamo non è non è gratis a un costo il costo a un costo è che quindi per quanto riguarda il settore agricolo può essere equilibrato facendo ricorso sicuramente a tre elementi alle forze giovani alla formazione e chiaramente all'innovazione secondo noi questi tre pilastri sono quelli necessari affinché i costi che ci sono della sostenibilità possono essere assorbiti e quindi si fa in modo che la sfida possa essere vinta grazie bene io ringrazio il dottor Gambozza ringrazio tutti intervenuti a questa tavola rotonda e vorrei soltanto lasciare una parola di chiusura di questa mattinata di lavori al presidente Piazza da parte mia ho trovato molto stimolante tutto il dibattito e con tantissimi spunti quindi lascio la parola al presidente per un saluto prego presidente io credo che i temi che in maniera molto sintetica sono stati posti sul tavolo siano una specie di buon viatico e di compiti per casa che tutti noi ci dobbiamo assumere esattamente come è stato ricordato i temi della sostenibilità saranno ormai permeano tutte le scelte e le decisioni che a qualsiasi livello chi ha degli incarichi chi ha delle responsabilità sarà chiamato a sostenere nel nostro settore c'è un aspetto diciamo ancora più peculiare siccome produciamo cibo siccome insistiamo il nostro settore è in tutto il territorio nazionale a più livelli è chiaro ed evidente che i temi che saranno i temi del futuro ormai non sono più qualcosa là da avvenire ma sono dentro al vissuto quotidiano e quindi i temi dell'innovazione i temi della capacità di saper cogliere queste occasioni dovranno essere per forza se vorremmo vincere la sfida incardinati sulla nostra identità sulla nostra tradizione perché noi appunto come ho detto prima produciamo cibo dobbiamo essere vincenti sul mercato proprio legando queste due cose l'innovazione con la tradizione con l'identità Empyar questo cerca di fare diciamo che per merito di tutti per merito della nostra struttura cominciare ovviamente dalla direzione generale poi tutto giù fino a al dipendente che lavora nei nostri stabili nei nostri immobili noi abbiamo cercato e cercheremo nel ripensare il ruolo di Empyar e il modo di operare di Empyar proprio attraverso questi aspetti quindi grande disponibilità ad accogliere il nuovo che arriva ma con un occhio molto attento come ricordava il segretario Rota alla nostra storia che è lunga quest'anno abbiamo festeggiato gli 85 anni di esistenza di questo ente che ha saputo superare una guerra superare la ricostruzione ha saputo governare anche il boom economico quando l'agricoltura era considerata qualcosa di marginale ma per portare poi e dare una mano anche dal punto di vista della sicurezza previdenziale il nostro mondo ad essere quello che era ora e io credo che momenti come quelli di oggi siano importanti perché ci servono servono a noi ma servono un po' anche al nostro sistema per fare il punto ma anche per farci conoscere per farci conoscere e dire che noi siamo presenti il sistema delle casse tra l'altro è un sistema molto efficiente perché mi correga la vicepresidente Stavone mi pare che circa dieci anni fa il patrimonio delle casse era circa la metà quindi vuol dire che in questi dieci anni si è operato in maniera molto efficiente si è riusciti a seguire il mercato e non capitava quando eravamo ragazzini che nell'entusiasmo di guidare il motorino si sfollava si accelerava ma non entrava la marcia e quindi il motore andava fuori giri non abbiamo sfollato siamo stati in grado di guidare la motocicletta molto bene e portarla al traguardo che non è un traguardo ma è sempre comunque una nuova partenza perché la velocità feroce dei cambiamenti imposti dalla tecnologia dalla modernità eccetera ci impone anche a noi di essere altrettanto reattivi altrettanto capaci ed è un compito importante perché non dobbiamo mai dimenticarci che io per noi almeno ma penso anche per i colleghi il nostro faro è comunque il nostro previdente il nostro iscritto che è quello che versa le risorse che poi noi in maniera dirigente e prudente dobbiamo investire per dare quei risultati e dare una sicurezza sociale che non è così banale e così trascurabile proprio in questo periodo per cui io credo che continueremo direttore a organizzare questo tipo di presentazione e permettetemi anche a investire risorse tempo e volontà nel poter raccontarci di impaia con gli eventi assieme al census assieme al nostro forum assieme alla comunicazione del parlamento eccetera è stata in grado secondo noi secondo me di farsi vedere un po' di più di quello che invece era anche nel recente passato perché questo tipo di attività non deve essere marginale non deve essere considerata un costo ma deve essere considerato un investimento perché come è solito dire mio caro amico di Treviso e lo dico in dialetto perché mi piace sempre ricordarlo abbiamo sto difetto noi veneti che iniziamo un discorso in italiano poi lo finiamo in dialetto permettetemi di fare anche oggi così lui è un grande sarto che costruisce Tabarri è un grande barbone un uomo che sembra nato nel diciottesimo secolo anche pensa come uno del diciottesimo secolo ma lui ricorda sempre con una battuta l'è ora di farsi vedere cioè è ora di farsi vedere e io credo che dovremmo continuare con questa attività perché è fondamentale ed è anche serve da stimolo e dal confronto nel farsi vedere anche con le altre persone si riesce ad avere idee nuove si riescono ad avere idee nuove si riescono ad avere opportunità magari inimmaginabili ma che servono a dare sempre quel risultato che torno a dire per noi è il mantra che è la tutela delle risorse che i nostri iscritti versano presso le nostre casse grazie veramente grazie a tutti grazie a tutti